Inaugurata nel campus di Colle Parco a Teramo la nuova Mensa dell'Unite che per tutto il periodo della pandemia consentirà a studenti, docenti e personali dell'Università Teramana di usufruire del servizio Mensa nella massima sicurezza. Il fruitore potrà prenotare il suo pasto scegliendolo tra una serie di proposte su un'applicazione specifica, pagare online da un proprio conto personale e ottenere in cambio un QR code che gli aprirà il tornello di accesso alla sala. Il pranzo è a turno, attualmente con il distanziamento ci sono 100 posti ogni volta, c'è a turno, si entra, si mangia, finito a mangiare si sanifica tutta la sala e si ritorna il secondo turno, quindi si arriva prenotati. Si può prenotare sia il cestino e quindi mangiarlo fuori, portarlo a casa o mangiarlo sui giardini, mangiarlo in altro luogo oppure prenotare e mangiare in sala. E quindi dalla prenotazione si sa se c'è posto, se c'è spazio, se non c'è spazio. Dalla prenotazione quindi si cucina preparato e non si può prendere più il pasto ma viene servito il piatto dalla fila della mensa. Il ragazzo quindi ha un borsellino elettronico sul suo sistema informatico della piattaforma dell'Azio, da questo periodo elettronico che lui ricarica 10 euro, 20 euro, 30 euro, quando genera il QR code verranno prelevate le risorse economiche, i soldi per poter acquistare il pasto. Quindi ha già pagato generando il QR code, significa quindi che non ci sono circolazioni di soldi, non c'è moneta, la cassa non c'è più, non c'è questa parte qua. E arriva quindi prenotato e pagato. Con il QR code si entra, il tornello che ha prenotato si apre perché c'è il lettore ottico per entrare e si entra e si entra prenotati, si entra in sicurezza. E a regime i posti a sedere sono 240, quindi da 100 togliendo il distanziamento potremmo arrivare a 240. Lo stesso discorso vale per i cestini. Oggi ci siamo mantenuti cauti su 50 cestini ma possiamo preparare anche 100, 150 a seconda di quella richiesta. Quindi è una struttura, è un sistema modulare dove c'è sicurezza nel trovare il posto, il posto di igienizzato e non c'è movimentazione di soldi, quindi occasioni per essere contaminati dal sistema. È un sistema replicabile anche su altri modelli, anche su altre situazioni. È una mensa che è stata pensata con un forte contenuto di innovazione tecnologica, all'altezza quindi di un ateneo che ha anche tra i suoi scopi esattamente quello di una ricerca scientifica applicata, messa in sicurezza su tutti i criteri anti-covid, sono diventati non un qualcosa di più che viene aggiunto a una mensa tradizionale ma a una riprogettazione completa di tutto il sistema.